Silence, è Silent Hill a tutti gli effetti, è Silente, è Hill, sta a vapore. Unboxing del nostro Obelisk RDA by Cartel Mods, arriva in questa scatolina di latta che all'interno contiene il nostro atomizzatore che andremo a vedere in seguito, una chiave per le torrette e per svitare il pin nel caso vogliamo montare il pin bottom feeder, un sacchetto con gli spare parts che contiene il pin bottom feeder o ring di ricambio, viti di ricambio e un adattatore per il drip tip 510. Si tratta di un dripper da 24 mm che presenta un'altezza dalla base al drip tip di 33 mm abbondanti. Per quello che riguarda il peso, l'atom senza cotone e build, non che la cosa possa cambiare di tanto, pesa 48-47 grammi. Qua in alto possiamo vedere un bel drip tip bello largo in derlin nero ed è un 810, come possiamo vedere qui, quindi lo possiamo sostituire eventualmente con tutti gli altri 810 disponibili nel mercato. Togliendo il cap possiamo vedere che presenta due differenti airflow che andremo a vedere dopo meglio nel dettaglio. Il cap è composto da due parti, il top cap e il cap centrale diciamo. Guardando il top cap possiamo vedere che nella parte superiore presenta questa svasatura rotondeggiante che ci garantisce un tiro molto, loro lo definiscono smooth, ovvero molto liscio e piacevole. È stata fatta effettivamente molto bene, non presenta nessun genere di bava. Guardando da questo lato sempre il top cap possiamo vedere questo airflow, ovvero questa asola che andrà in corrispondenza dell'airflow superiore. Una volta inserito ci permetterà di regolare il nostro airflow ruotando la parte superiore del top cap per parzializzarlo. È un airflow parecchio particolare per il semplice fatto che per quando è uscito questo atomizzatore, che se non mi sbaglio è più di un anno fa, non c'erano ancora tanti atom che sfruttavano questo genere di airflow, specialmente doppio. Nella parte superiore abbiamo appunto questi tre forellini che sono del diametro di 3 mm ciascuno, parzializzabile appunto come vi dicevo prima ruotando il top cap. I due airflow sono assolutamente distinti l'uno dall'altro e quindi ci permetterà di poter personalizzare il nostro tiro parzializzando a piacere sia quello sopra che quello sotto indipendentemente l'uno dall'altro. Il secondo airflow che vediamo nella parte inferiore del cap non è altro che un insieme di tre fessure lunghe 7 mm ciascuna sviluppate per la larghezza e alte circa 1 mm l'una che andranno a unirsi in un canale unico montato sul nostro deck, che vi farò vedere dopo, che punta direttamente verso il centro dell'atomo. Ora per farvi capire meglio prendo direttamente il deck e come potete vedere questo airflow che da questo lato è assolutamente molto largo andrà poi a stringersi verso l'interno e combace esattamente sulle tre fessure che vi dicevo prima. La caratteristica fondamentale di questo airflow è che punta direttamente inclinato a 45 gradi verso il centro del nostro deck sia da un lato che dall'altro. Ci permetterà una volta montata la coil di far sì che venga colpita dall'aria sia da questo lato che nella parte superiore all'incerca a questa altezza qui. Dimenticavo di farvi notare un'altra piccolezza. Nella parte superiore abbiamo il cap che è ben largo 2 mm per lato, mentre nella parte inferiore per combaciare sul nostro deck è stato diciamo ristretto di un millimetro. Questo vantaggio nella parte superiore dove più o meno comunque staranno le coil ci permetterà di garantire che la dissipazione del calore avvenga in una maniera veramente veramente ottima. Andiamo a dare un'occhiata al nostro sistema di serraggio, al nostro deck. In questo caso abbiamo un definiamolo quad post postless, io lo definirei così, perché abbiamo appunto quattro torrette separate l'una dall'altra però distribuite in una maniera definirei quasi postless. Presentano dei fori veramente 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 spaziosi che ci permettono di poterli inserire anche dei wire veramente grossi. Da questo lato vi faccio vedere il sistema di serraggio che è stato utilizzato, ovvero viti a taglio che noi preferiamo sempre in maniera assoluta rispetto alle brugole o le vite a croce, quindi già primo punto a favore. Lo spazio a disposizione all'interno dei fori per il serraggio è di ben 3 mm, quindi vi posso assicurare che ci potete infilare veramente veramente di tutto. Guardando da sopra possiamo notare che la vaschetta a disposizione non è per niente bassina, anzi è ben alta 5 mm dal bordo del deck fino in fondo. Questo ci garantisce un'autonomia di ben 3 ml di liquido all'interno della vaschetta nel caso noi andiamo a utilizzare l'atomizzatore come un classico dripper, quindi mettiamo noi il liquido da sopra. A mio avviso per come è strutturato e per come piace a me utilizzare questo genere di atom ha la sua ragione di esistenza maggiore nell'utilizzo appunto da dripper piuttosto che nel bottom feeder, almeno io le preferisco così. Quindi da questo punto di vista il fatto di avere una grande autonomia di liquido è sicuramente un punto a favore. Andiamo ora a rigenerare il nostro atom, per l'occasione rimonterò una coppia di coil che avevo montato fresche fresche stamane, quindi non mi sembrava tanto sensato buttarle via, che sono del 3 core fused klepton. La rigenerazione di questo genere di atom ragazzi è assolutamente non facile di più. Considerate come vi dicevo prima è importante che l'aria rientri così, la classica altezza al quale dovrete tagliare le gambine è quella più o meno dell'aerfo superiore, quindi l'aria da sotto la deve prendere e l'altezza è quella dei fori superiori. Ragazzi l'altezza per me idonea è praticamente arrivare in fondo alla vaschetta, non ha senso riempirla di cotone, tagliare il cotone all'altezza del primo ring. Si può veramente sfoltire parecchio il cotone nella parte inferiore, perché unendolo diciamo in un unico canale barra angolo tutta la sua quantità risulterebbe troppa, quindi lo apro proprio per bene. Io lo vado ad adagiare nella sua vaschettina. Collaudiamolo. Lo collaudiamo con il nostro Delta di Army Flavor. Mix di vaniglia custard con mirtiglio. Silence. E' silent hill a tutti gli effetti. E' silente, è hill, sta a un vapore. Lo vapore. Partiamo da un primo presupposto. Questo è un atom che comunque è uscito più di un annetto fa da quello che ho sentito in giro, e quindi a livello di sviluppo di tecnologia potrebbe risultare superato, se lo consideraste come atom appena uscito, per l'aria, per il deck, eccetera eccetera. Però al tempo, almeno per quello che so io, era comunque abbastanza un'innovazione, più o meno. Comunque il doppio airflow fatto in questa maniera, nonostante tutto, nonostante che sia passato più di un anno, fatto in questa maniera qua io non è che ne abbia visti così tanti. Punto numero uno. Punto numero due, nel rientra comunque in una fascia di prezzo che non è di quelle esagerate, a prezzo pieno sta intorno ai 60, 50, 60 dollari, e a livello di qualità costruttiva a me è piaciuto molto, sinceramente. Ha un'ottima resa aromatica, è parecchio versatile, perché comunque sia che tu li metti un fruttato, sia che li metti un cremoso, bene o male, rende sempre abbastanza bene. È un atom che comunque, da come l'ho provato io, è prettamente, diciamo, da cloud e va spinto abbastanza. Non rende bene con build leggerine, va abbastanza caricato. La cosa che mi è piaciuta molto, oltre al discorso della qualità costruttiva, è che se lo utilizzate come un dripper, come vi dicevo in precedenza, ha veramente una vaschetta che tiene un sacco di liquido. Quindi vi permette di fare parecchi puff senza dover drippare di nuovo, cosa che comunque se uno usa tubi o box in un BF non è assolutamente da trascurare. Nell'utilizzo in BF, io l'ho provato per un pochino, no, a me tendenzialmente gli atom dual coil da cloud estremo, in bottom feeder, a meno che non hai una dual battery da spingerli bene bene bene, a me non fanno mai tanto impazzire. Preferisco una meccanica, specialmente una meccanica. A lamelle, utilizzare questi atom, per come mi piace sapere a me, non è cosa. Perché risultano essere un po' ristretti, diciamo. Però a mio gusto mi è piaciuto un bel po', specialmente per il fatto anche che puoi sia parzializzare l'iris lo sopra, sia quello sotto, indipendentemente l'uno dall'altro, quindi lo puoi insettare più o meno come ti piace. Questa sì è una gran cosa, anche se poi ovviamente, come diceva lui, anche se è uscito da un anno, ho visto solo un atom, che ha un deck del genere, e se l'abbiamo anche recensito, stiamo parlando del drop. Questo sostanzialmente è un drop, ragazzi, ci va molto 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 vicino. Il sistema è molto simile, anche se il flavor mi sembra un po' più scarso rispetto a un drop. A me è più, è un tiro diverso, questo secondo me, il drop rende molto bene spinto ancora di più. Questo è un po' più tranquillino. Adesso lo sto usando solo con l'irflow sottostante tutto aperto e il flavor è tanta tanta roba così. Una cosa figa di questo atom, a mio avviso, è che anche se ci svapati in maniera compulsiva, con il fatto che la parte superiore del cap è abbastanza grossa, è molto difficile farlo scaldare. Quindi per me è un'ottima cosa. Cioè in qualche parole, è una specie di drop con qualcosa un po' in meno per me rispetto al drop. Sì, tu l'hai provato più di me il drop, quindi lo conosci meno. Il drop è devastante come atom, veramente uno dei migliori atom per me è uscito nel 2017, è una cosa devastante. Quindi sì, prende quel concetto, però comunque sia chiaro che anche questo qua, specialmente con gli airflow parzializzati, quindi anche solo usando solo quello laterale piuttosto che solo quello sotto, per gusto mio il flavor migliore è tenendo solo quello sotto, caricandolo un po' meno, con una build un po' più piccola e avvalersi solo dell'airflow sottostante. Sì, non è un atom come il drop da sparare in serio o cosa del genere, ma tenere comunque più tranquillino per farlo lavorare bene. Però comunque sì, il flavor è intenso, corposo, anche con i cremosi si sposa molto molto bene. Più che altro a me piace molto la fluidità che genera nel tiro con il suo airflow, a me mi fa veramente di brutto. Quello sì, che questi tipi di fori che hanno fatto gli dà uno smoothie, lo chiamano loro, come dicevo prima, che per me è molto piacevole. Concordo, bel prodottino. Il video è terminato, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace qua sotto, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Se siete su Facebook mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook, mi piace al video, condividetelo everywhere. Io sono Cata. Io sono Miles. E alla prossima recensione, ciao! Ciao!